Ciao a tutti e benvenuti in questo mio vlog speciale 2000 iscritti. Ebbene sì, dopo 6 anni il mio canale ha raggiunto le 2000 iscrizioni, ora ovviamente un po' di più. Non sono questo gran numero, ma io veramente mi accontento e ci tengo davvero a ringraziare tutti quanti i 2000 iscritti. Quindi vorrei davvero andare lì a ringraziare tutti, ma ovviamente non si può fare. Il mio seguito non è un seguito degno dei 2000 iscritti a dire il vero, non è che io abbia tanto seguito ultimamente. Appunto per questo il 2015 per me è stato una sorta di anno di rilancio, soprattutto dall'inizio dell'anno in cui ho cercato di lavorare sulla parte estetica del mio canale, anche se comunque c'è stata una crescita di circa 400 iscritti, non tantissimi. Però comunque è stato qualcosa di buono, perché sono arrivato a questo traguardo. Verso l'inizio dell'anno i miei video hanno avuto nuovi intro con canzoni diverse, come sottofondo, e un nuovo trailer per il mio canale. Ovviamente tutto ciò erano template gratuiti, scaricabili tramite YouTube, creati da altri utenti e messi a disposizione di utenti meno esperti nella creazione di video, come me ad esempio. Ultimamente poi ho cambiato di nuovo il trailer del canale, l'ho usato un po' migliore, ovviamente scaricando un altro template. Ho creato un nuovo intro che ora sarà sempre uguale nei video. Ho iniziato anche col tempo ad utilizzare canzoni e brani offerti da YouTube, quindi liberi da copyright, perché in molti miei vecchi video c'erano canzoni che venivano riconosciute da YouTube e quindi contestate. E in un video addirittura mi è stato tolto completamente l'audio. A fine giugno sono stato contattato tramite email da WSP Group e sono diventato ufficialmente un partner di YouTube. Ora si comincia a fare il money grab. A parte gli scherzi, ora sto cercando di prendere più seriamente il mio canale dal punto di vista estetico, dal punto di vista di qualità dei video che non è mai un granché, dal punto di vista ovviamente del copyright e quindi magari se riuscirò a ricavarne qualcosa ne sarò ovviamente ancora più contento. Voglio comunque essere molto più presente nei miei video, perché non posso mettere un video ogni tre mesi e pretendere che ne ricavi qualcosa ovviamente. E dopo tutto ciò ho alcuni progetti in cantiere che voglio velocemente illustrare. Il mio prossimo video, quindi il prossimo che inserirò dopo questo, sarà un ritorno al passato, sarà un video su Yu-Gi-Oh! come mi è stato richiesto da molto tempo. Noto che l'ultimo video di Yu-Gi-Oh! che io ho inserito in questo canale risale a ottobre 2013. Devo dire che l'argomento Yu-Gi-Oh! mi ha fatto davvero nel tempo guadagnare tantissimi iscritti, direi più della metà di quelli che ho al momento. Perciò, giustamente, dopo tante richieste, torno a fare un video. Per ora c'è solo questo video in cantiere che farò tra molto poco, ma poi più avanti vedrò. Dico a tutti ovviamente che non acquisto più carte, buste, mazzi, nulla da tanto tempo ormai, però questo video mi è stato richiesto davvero tanto e quindi lo farò a breve. Sul tema Power Rangers, che continuerò molto, punto a creare video con contenuti più originali. Non ovviamente solo recensioni e unboxing che farò comunque quando avrò la disponibilità di nuovi articoli, ma punto a fare video, spesso anche ironici, con quello che sarà, quando ovviamente sarà finito, il mio costume cosplay che poi ovviamente voglio illustrare video per video nella rubrica It's Cosplay Time, che è adesso arrivata al secondo episodio, e quindi finirla in vari episodi e spiegare tutto il processo di creazione del mio costume cosplay. Perciò, prendendo spunto da vari youtuber, ho intenzione di fare altri video diversi. Essendo che l'interessamento italiano a questo argomento non è un granché, devo dire, anche sulla pagina che gestisco, Power Rangers Italia, abbiamo poco più di 800 like, ho deciso, in questo punto di vista ho pensato, anzi non ho ancora deciso, di farlo diventare, il mio canale appunto, di farlo diventare un po' più internazionale, quindi eventualmente creare questi contenuti, in costume video ironici in questo caso, creare questi contenuti anche in lingua inglese, per avere più seguito ovviamente internazionale, e appunto farmi conoscere un po' di più, perché voglio davvero cercare di espandermi più di così. Altra intenzione che ho per il mio canale è un altro ritorno al passato, con i video agricoli, di cui l'ultimo è dell'anno scorso, ovviamente ho intenzione di continuare a produrre questi tipi di video, e ovviamente con una qualità migliore, trattandosi qualità audio, qualità video, le riprese, montaggio e tutto il resto. E per fare al meglio video del genere, avevo pensato anche di comprarmi una action camera tipo GoPro, quelle piccoline, magari con la ventosa e vari tipi di attacco, per fare video in modo anche un po' diverso. Questo riuscirò a farlo quando finalmente riuscirò ad avere una disponibilità per comprarmi una action camera che non costa poco, e perciò dopo iniziare a produrre video migliori anche in questo caso, perché anche la parte agricola del mio canale ha suscitato molto interesse nel tempo, sin dall'inizio del mio canale, sei anni fa, e perciò voglio svilupparla sempre di più. Tirando le somme voglio rendere il mio canale molto più attivo, voglio essere io molto più presente sul mio canale, con video migliori, di qualità migliore, con cadenza periodica migliore, anche questa. Voglio essere più presente magari con qualche vlog, di cui qualche idea ho già, magari con qualche FAQ time, come fanno gli youtuber famosi, e a questo punto ho un'idea. Perché a voi non chiedere ora di fare un video FAQ time? Potete farmi nel video qui sotto, su Facebook, dove volete, nei contatti li avete ovunque, potete farmi qualsiasi domanda, anche su ASC ad esempio, dove a volte ricevo domande. Vediamo se si può creare questa cosa. Voi chiedetemi ciò che volete, chiedetemelo dove volete, e io tra un po' di tempo riassumerò il tutto, e risponderò in questo video. Vedremo se il mio seguito, i miei 2000 iscritti, riusciranno a fare qualcosa di concreto per me e per loro, e speriamo appunto di riuscire a raccogliere qualche domanda. Forza, vi lancio questa sfida, questo invito. FAQ time numero 1, via da ora. Bene, per questo mio vlog speciale 2000 iscritti è tutto. Io ci tengo davvero a ringraziare tutti, davvero tutti i miei iscritti, e anche tutti quelli che si iscriveranno in futuro. Vi invito a mettere un like al mio video se vi è piaciuto, magari anche un commento, o chissà una domanda sul mio video, e condividerlo ovunque, anche su YouPorn. Nel video qui sotto in descrizione trovate tutti i miei contatti, tutte le mie pagine, tutto quello che volete, non c'è il contatto YouPorn. E che dire, io davvero per l'ennesima volta ci tengo a ringraziare tutti i miei iscritti e ovviamente anche quelli che verranno in futuro. E vi dico che ora ci vediamo al prossimo video, ovviamente sapete già cosa sarà, e grazie ancora. Ciao! -3-4-1-6-2-6-17-6-7-7-8-6-3-7-7-8-6-7-7-7-7-7-8-7-8-7-8-6-7-8-7-8-7-8-7-8-8-6-8-7-9-8-4-8-7-8-7-8-6-9-7-9-8-8-9-8-8-7-8-7-8-9-9-8. Grazie per la visione!